Il 2022 si è aperto all'insegna dell'aumento del costo dell'energia. Anche le famiglie e le attività produttive sarde stanno confrontando con il raddoppio delle bollette, un fenomeno inizialmente non legato all'invasione russa dell'Ucraina, ma che potrebbe determinare ulteriori rincari. Per evitare un nuovo salasso ad aprile, Asso Utenti chiede al governo un intervento immediato per far scendere il prezzo dell'elettricità e del gas. In caso contrario, scrive l'associazione, famiglie e imprese andranno incontro ad un nuovo maxi rincaro delle bollette a partire dal primo aprile, in occasione dell'aggiornamento trimestrale delle tariffe. I consumatori non possono aspettare maggio per ottenere un calo dei prezzi, perché ormai da sei mesi che stanno subendo le conseguenze dei pesanti rincari in bolletta, sottolinea in una nota il presidente di Asso Utenti, Furio Truzzi. Già oggi è possibile apportare cambiamenti in tema di energia, modificando le tariffe del mercato tutelato e bloccando la speculazione legale che si registra sui mercati, ricorrendo a tariffe amministrate per elettricità e gas. Se si vuole evitare il disastro economico, favorire la ripresa del Paese, dei consumi e fermare l'inflazione, il costo dell'energia va tagliato subito, non certo a maggio. In un anno il PUN, il prezzo unico nazionale, è passato da 0,06 euro a kilowattore a 0,35 euro, con un aumento del 500%. Un'escalation che farà scattare nuovi aumenti dalle bollette ad aprile, conclude il presidente Truzzi.